buongiorno buongiorno bentrovati e bentrovate a questo webinar che teniamo oggi sugli strumenti per l'accountability io sono noren binkl qualcuno mi conosce soprattutto chi è già ha seguito il mock tutto il mock su l'accountability o altri mock del progetto pen gov di cui a breve vi parlerò per chi ancora per chi si collega oggi per la prima volta mi presento sono noren binkl e collaboro con il format e oggi sono un po la moderatrice la tutel di questo webinar e a breve andrò un po a illustrarvi di cosa si tratta e cosa faremo oggi mi prendo giusto qualche minuto per segnalarvi la nostra chat nel caso abbiate qualsiasi problema di collegamento di connessione se non sentite o vedete bene c'è tutto ci sono le mie colleghe che intervengono e possono darvi supporto e aiuto mentre trovate accanto alla chat il box delle domande e risposte quel box è un po più specifico per inserire le vostre domande da rivolgere durante tutto il corso del webinar ai nostri relatori vi consiglio anzi vi invito vivamente ad utilizzare il box domande e risposte perché come vedrete forse lo state già vedendo la chat scorre molto in fretta e quindi c'è il rischio se se ponete qualche domanda ai nostri relatori utilizzando la chat rischiamo di perdercela il box domande e risposte invece serve proprio a questo io vedo che abbiamo già superato i centocinquanta partecipanti sto un attimino scorrendo la chat mi sembra che stanno arrivando soprattutto saluti di buongiorno quindi chiaramente ricambio insomma a nome mio e anche di tutto lo staff del formes che oggi è a supporto di questo webinar a brevissimo vi presento i nostri relatori ma permettetemi di fare una piccola introduzione su questa mattinata e su i nostri corsi oggi è un webinar particolare rispetto a quelli che curiamo di solito perché è un webinar che si introduce all'interno dei nostri mock quindi dei nostri corsi online che si tengono a distanza e che adesso vedete in questa slide però a differenza degli altri webinar ehm lo abbiamo aperto lo abbiamo aperto anche a un pubblico più ampio che non per forza è iscritto al nostro corso ma che comunque ha interesse ad affrontare queste tematiche i eh questi quattro corsi che leggete in sovraimpressione sono corsi che si inseriscono all'interno del progetto open gov ed è un progetto di cui insomma eh di cui si occupa il formes all'interno del pon governance e trasparenza la mia collega Margherita De Giorgi che eh sta curando da settimane il mock sull'accountability vi sta segnalando in chat i link con tutte le schede che descrivono ciascun corso e con la possibilità anche di potervi iscrivere a queste nuove edizioni abbiamo il corso qualità dei servizi digitali che eh adesso a breve a breve adesso è in prima edizione e a maggio inizierà la sua seconda poi c'è il corso partecipazione pratiche digitali di partecipazioni che eh si è appena conclusa la terza edizione partirà la quarta inizio maggio il corso sugli open data siamo adesso eh partiti la settimana scorsa con la seconda edizione e a giugno ci sarà la terza e poi c'è il corso sull'accountability all'interno di cui ci troviamo oggi è eh oggi è l'ultimo incontro che abbiamo online in modalità sincrona nel nostro quarto e ultimo webinar e come vi ho detto prima è eh un incontro aperto anche a un pubblico più ampio i nostri mock si eh strutturano eh nel corso di cinque settimane sono in completamente fruibili a distanza si compongono di quattro moduli e all'interno di ciascun modulo potete trovare video lezioni tutorial interviste tutti da usufruire in modalità autonoma e asincrona quindi anche eh secondo i vostri tempi e le vostre necessità ci sono poi dei test di autovalutazioni un'esercitazione da fare a distanza che sempre eh potete fare a vostra a vostra insomma eh quando voi eh lo preferite e poi quattro webinar quattro incontri in online come quello di oggi che eh ci aiutano un po' sia a introdurre gli argomenti di ciascun modulo sia a ehm avere un momento di incontro di confronto e di scambio come vi dicevo oggi è il quarto webinar sull'account del corso accountability vi ho sinteticamente riportato qui per chi appunto non è ehm non è iscritto al corso e quindi non ha partecipato alle durante le settimane precedenti agli altri webinar e non ha avuto modo di usufruire dei nostri contenuti online questi sono i quattro moduli di cui si compone il corso il primo è un'introduzione all'open government che è un modulo trasversale anche ai corsi sull'open data e sulle pratiche digitali di partecipazioni e eh ci introduce al tema del governo del governo aperto nello specifico per questo corso introduce il tema dell'accountability ad esempio sul corso degli open data ehm fa un'introduzione sull'importanza sul ruolo dei dati aperti per appunto il governo aperto secondo modulo eh ci parla di ci introduce l'accountability ci dice che cos'è i principi la normativa e ehm ci dà appunto gli strumenti per iniziare a parlare di eh di accountability e capire di di cosa si tratta il terzo modulo eh affronta il tema su come rendere accountable una pubblica amministrazione presentando anche eh delle buone pratiche presentando anche eh quali sono quegli elementi che ehm garantiscono a una pubblica amministrazione un alto livello di eh accountability e poi c'è il quarto modulo il quarto modulo che eh si è aperto in questi giorni e che oggi cioè che si è aperto scusate la settimana scorsa e che oggi eh introduciamo con questo webinar sugli strumenti dell'accountability eh con due relatori che come vedete sono già collegati e che vi eh vi presento immediatamente il primo che correrà appunto la prima parte del nostro webinar Sergio Talamo con il suo intervento sulle tecnologie e la programmazione unificata ci parlerà del Piao e degli strumenti per la trasparenza l'accountability partecipazione e citizen citizen satisfaction scusate e il dottor Talamo è direttore della comunicazione istituzionale delle relazioni con le pubbliche amministrazione del form SPA ed è esperto di trasparenza e comunicazione. A seguire abbiamo Massimo Di Rienzo con il suo intervento su come costruire le competenze per l'accountability del settore pubblico e anche per lui trovate una breve presentazione in questa slide il dottor Di Rienzo è cofondatore di Spazio Etico, esperto di integrità e lotta alla corruzione e membro della task force di OpenGov Italia. Io non voglio rubare ulteriore tempo ai nostri relatori, interrompo la condivisione, vi ricordo che avete lo spazio domande e risposte per rivolgere le domande a ciascuno di loro, seguiranno i due interventi e poi a conclusione degli interventi avremo lo spazio per appunto le domande e risposte e invece una piccola comunicazione per i partecipanti al mock di accountability a conclusione del webinar Margherita De Giorgi che ben conoscete la tutor di questo corso vi darà alcune informazioni tecniche finali di appunto di come arrivare a conclusione di questo nostro mock. Io intanto vedo le slide del dottor Talamo perfettamente quindi le lascio la parola e buon webinar. E forse aspetti, dottor Talamo, vedo che ha il microfono spento, dovrebbe un attimo riattivare. Perfetto, adesso la sentiamo, grazie mille. Grazie Nora, buongiorno a tutti. Credo che per smaltire gli eccessi della Pasquetta non ci sia niente di meglio che un bel webinar sull'accountability che ci lascia dentro la sfera della resurrezione pasquale, quindi di quelle aspirazioni vagamente mistiche che attraversano e illuminano la nostra vita. Noi dobbiamo, da funzionari pubblici quali siamo, sicuramente legati alla nostra missione, se no non saremmo qui, credere che questo obiettivo sia in realtà molto più vicino di come la prassi quotidiana ci suggerisce. Io sono impegnato in questi temi anche dal punto di vista scientifico, insegno in università e master da ormai tre decenni, e con il Formez il lavoro di formazione su questi temi è costante, intenso. Esistono, come ha descritto adesso la collega, dei percorsi formativi molto accurati che cercano di dare in particolare alla programmazione che è stata introdotta con il Piau una dimensione evolutiva. programmare non significa riempire altri fogli di elaborazioni teoriche o di numeri, ma significa provare a far coincidere le proprie azioni con degli obiettivi. Ecco perché il punto chiave del mio intervento sarà quello di vedere quali sono i meccanismi che la comunicazione e la trasparenza possono mettere a disposizione delle amministrazioni per diventare accountable, cioè valutabile e partecipabile. Sono questi due concetti chiave che sicuramente non sono insiti nella storia della nostra amministrazione, ma verso cui ci stiamo muovendo. Io oltre a questo, come vedete, ho messo due hashtag dentro la mia slide di presentazione che sono Pia Social, che è un punto di riferimento della comunicazione digitale in Italia, di cui sono fra i cofondatori, e la legge 151, cioè l'idea di riforma della comunicazione pubblica, della legge 152.000, di cui sono fra i principali promotori, perché ritengo che si tratti di un passaggio fondamentale per portare tutti questi grandi obiettivi di cui parliamo e di cui parleremo oggi verso una loro traduzione concreta. È evidente che quando parlo a dei colleghi e non a degli studenti, o a dei giornalisti che sono spesso estranei alla pubblica amministrazione, parlo in termini diversi, non vi parlerò di concetti astratti, ma di quello che materialmente succede nella vita quotidiana delle pubbliche amministrazioni. Proverò in questa mezz'ora in cui saremo insieme, alla fine di questi 30 minuti, a lasciarvi una sensazione intanto di non superfluità del nostro dialogo, ma anche di maggiore fiducia in percorsi che sono già nelle norme e che vanno quindi da noi attuati, sapendo che ci stiamo muovendosi pure lentamente verso una nuova idea di amministrazione rispetto a quella tradizionale. Proviamo ad andare avanti, vediamo se... Ecco, il punto di partenza che io metto sempre alla base del mio lavoro non è di carattere, diciamo, semplicemente normativo, si tratta di uno spirito fondamentale che attraversa la nostra amministrazione, che io ho collegato a tre grandi personalità della nostra storia, al deputato Filippo Turati che nel 1908 disse alla Camera dei Deputati, in tempi assolutamente anticipatori rispetto al corso della storia italiana, che qualsiasi elemento della casa dell'amministrazione deve essere di vetro, salvo che un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto. Pensate questa frase che Valore Profetico ha avuto se soltanto nel 2016, quindi 108 anni dopo, questo principio è diventato legge. Poi facciamo un salto abbastanza notevole di quasi un secolo, nel frattempo è arrivata la democrazia, la Costituzione, personalità come De Gasperi, come Inaudi, che hanno ribadito questi principi. Nel COMPA, il Salone della Comunicazione Pubblica di Bologna, il presidente del Consiglio, Carlo Zeglio Ciampi, dice che la comunicazione non è un mezzo sussidiario, ma un mezzo strategico da realizzare con professionalità e senza innovazione. E dieci anni dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle Camere riunite, dice un fatto fondamentale che a mio parere andrebbe appeso a fianco alla sua fotografia in tutti gli uffici pubblici, che ciò che conta dell'amministrazione non sono i nostri uffici, ma quello che arriva al cittadino, il volto della Repubblica. Quindi l'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo, chi di voi lavora in una di queste strutture, può avere dal presidente della Repubblica, e non certo da Sergio, da solo da Sergio, l'indicazione è che quello che conta è il front office, cioè quello che noi riusciamo a rendere al cittadino e non quello che costruiamo nei nostri uffici. Nel frattempo, l'articolo 97 della Costituzione, uno degli articoli più brillanti di una carta di per sé, illuminata veramente dalla visione e dal senso dello Stato, dice che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati buon andamento e imparzialità, due principi che, guarda caso, sono la spina dorsale della legislazione sulla trasparenza. L'imparzialità riguarda la trasparenza anticorruzione, quella che serve a prevenire gli abusi, il buon andamento è quella che riguarda la trasparenza accountability, quella che serve a collaborare tutti alla qualità dei servizi. Purtroppo nel nostro sistema ha prevalso l'idea dell'anticorruzione come elemento preventivo degli abusi, preventivo dei reati e si è molto sbiadita rispetto alle origini l'idea della trasparenza accountability. Noi siamo qui anche per rilanciare questo aspetto fondamentale della legislazione della trasparenza che si è tradotta nel cosiddetto foio italiano, cioè decreto 97 del 2016. Quindi io vi parlerò di norme, ma di norme che di fatto presuppongono dei valori, ma poi si ritrasformano in norme. Cioè non vi parlerò di auspici, non siamo in un convegno, siamo in un incontro di colleghi che parlano di quello che la legge dice, non quello che noi vorremmo che la legge dicesse. E quindi vi sorprenderà probabilmente il mio riepilogo di norme scritte che purtroppo in molti casi restano sulla carta. E partiamo quindi dal punto di arrivo che è la programmazione unificata. decreto legge 80 del 9 giugno 2021, poi decreto funzione pubblica 132 del 30 giugno 2022, che mette insieme una nuova idea di performance legata anche al piano di fabbisogni del personale, della formazione, della parità di genere, del lavoro agile e dell'anticorruzione e della trasparenza. Quindi una idea di programmazione unificata che punta a produrre valore pubblico, quindi non più semplicemente un elenco di buone intenzioni, ma qualcosa che dovrebbe rappresentare l'orizzonte che l'amministrazione si dà all'interno del percorso annuale. E vedete l'articolo 6.3, qua cominciamo a descrivere le norme, non dico non applicate, ma sicuramente dimenticate come se l'amministrazione italiana distinguesse le norme in quelle prescrittive, che sono quelle ad esempio che impongono di costruire un nuovo ufficio, su quelle non ci si sbaglia mai, si è subito pronti, e invece quelle che vengono considerate quasi delle indicazioni generiche, come il semaforo losso in certe città italiane. Vedete l'articolo 6.3, dice che bisogna programmare e misurare l'aumento della qualità dei servizi agli utenti, modalità di monitoraggio degli esiti con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza con gli strumenti di quel decreto legislativo 27 ottobre 2009, parliamo della riforma brunetta, della prima riforma del 2009. Vedete questa frase com'è chiara, io non la saprei dire meglio in termini di auspici convenistici, e sono molto felice di dire che la legge italiana lo prevede in una norma addirittura di soli due anni fa. Qualcuno, ognuno di voi, può darmi conferma che questa norma sia stata finora abbastanza disattesa o perlomeno segnalata in un piavo, ma non ancora applicata, salvo casi che costituiscono l'eccezione. Eppure, come vedete in questo brevissimo riepilogo, da 33 anni la legislazione va in questa direzione, non è che siamo soltanto al 2021. Prima del 2021 e del 2022, quindi del Piau, vi sono state delle leggi, vedete quelle segnate in eretto, che nel 1990 introducono la prima forma di trasparenza, nel 2000 la legge sulla comunicazione pubblica, nel 2009 il concetto di performance della prima riforma brunetta, nel 2013 il decreto 33 che introduce la trasparenza che oggi è chiamata l'accesso civico semplice, e nel 2016 il FOIA, seguito da due circolari, quella 2-2017 e quella 1-2019. Naturalmente tutte queste norme sono facilmente rinvenibili, ma io poi vi lascerò tutti i miei ricapiti per eventuali contatti e approfondimenti che vorrete svolgere con me, perché io considero ogni lezione l'inizio di un dialogo e non senza dubbio la fine. La trasparenza del 1990 era una trasparenza che allora fu rivoluzionaria, ma era una trasparenza limitata da criteri molto vincolanti. Cioè il legislatore del 90, l'allora ministro Remo Gaspari, prima repubblica, sostanzialmente sosteneva che potessero accedere alla trasparenza soltanto coloro che dimostrassero di avere un interesse concreto, diretto e attuale, legato a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui è chiesto l'accesso. In parole semplici, io ho partecipato ad una gara di appalto, ho perso questa gara, ho un interesse momentaneo, voglio i documenti della gara per essere sicuro che il mio interesse è stato tutelato in modo adeguato. Per tutti gli altri, vedete, non solo resta in vigore il divieto di accesso, ma le amministrazioni possono, per loro decisione, stabilire un elenco di documenti sottratti all'accesso. Quindi vedete come nel 90 il legislatore è perentorio, dice che la regola è il segreto e la trasparenza è l'eccezione, addirittura arrivando a scrivere in un dimenticato comma 3 dell'articolo 24 che non sono ammissibili stanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Quindi in sostanza il legislatore del 90 dice non vi alzardate a pensare con la trasparenza di controllare il comportamento del sovrano. È un reato di lesa maestà. E quindi questo meccanismo è un meccanismo che nel 90 viene in qualche modo incorniciato, reso addirittura solenne attraverso una legge che per concedere un diritto in pratica lo nega. Ed è un punto fondamentale perché nel 90 noi siamo già in un enorme ritardo rispetto ai sistemi anglosassoni o scandinavi. Del resto l'Italia ha fatto molto tardi tante riforme come quelle del diritto di famiglia o dell'abolizione del delitto d'onore. non è che sulla trasparenza abbia fatto molto meglio. Però poi le cose vanno avanti e arriviamo ad un lungo percorso che prima abbiamo ripilogato che arriva al famoso comma 2 dell'articolo 5 del decreto 33 riformato dal decreto 97 che conoscerete tutti. Io la chiamo la trasparenza totale una trasparenza assolutamente inedita che dice che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto che era questo il meccanismo del decreto 33 e indipendentemente da un suo interesse specifico diretto e concreto che era invece il criterio della legge 241 del 90 nel rispetto naturalmente attraverso dei segreti. Quindi la regola diventa il contrario diventa la regola di Turati del 1908 il contrario di quella prevista nel 1990 cioè la regola e la trasparenza il segreto e l'eccezione. Quindi noi saremmo di pronte ad una situazione in cui la trasparenza va anche oltre la casa di vetri di Filippo Turati diventa uno strumento di reputazione di riorganizzazione perché se noi dobbiamo essere trasparenti dobbiamo riorganizzare la nostra vita pubblica di valutabilità, di partecipazione di effettività della cittadinanza digitale principio base della riforma Madia quindi ministro di un altro colore politico che nel 2015 lo mette all'articolo 1 della sua riforma la nostra cittadinanza digitale siamo cittadini che devono poter far parte di un meccanismo di trasparenza ottenibile attraverso gli strumenti digitali la performance intesa come patto che diventa poi partecipata la customer satisfaction, lo standard di servizio le carte, l'uso dei social media come strumenti di trasparenza di fatto tutto questo dovrebbe essere la trasparenza dopo il 2016 è inutile che tra di noi se voi foste degli studenti vi racconterei qualche aneddoto ma essendo voi dei colleghi sapete bene che questo non avviene che spesso il responsabile trasparenza è un profeta disarmato che si trova a dover sollecitare a tutti gli uffici degli adempimenti che malvolentieri vengono fatti anche perché non se ne capisce il senso nel senso che io fornisco dati e pubblico ma per chi se nessuno sa che la democrazia partecipativa passa dalla trasparenza che l'accountability è il nuovo obiettivo dell'amministrazione pubblica restano auspici più delle volte impigliati dentro le resistenze della cosiddetta burocrazia conservativa così come la chiama l'amico Carlo Mocchi Sismondi presidente del forum PA eppure vedete a proposito di norme io vi cito soltanto cinque norme ne potrei citare molti ma queste cinque norme mi fa piacere farlo ripeto perché fino a qualche anno fa citavo quelli che erano mie idee oggi sono norme dello Stato vedete il tag della trasparenza come parla di anticorruzione di autorità di responsabili vedete com'è asfissiante che è la nuvola del tag della trasparenza oggi poi ve ne farò vedere un'altra molto diversa l'articolo 10,9 del decreto 33 dice che la trasparenza è la dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi e il decreto 74 del 2017 dice che la performance deve lavorare sugli impatti delle politiche e dei progetti dell'ente migliorativi del benessere complessivo e multidimensionale cioè economico, sociale, ambientale o sanitario di cittadini, impresa e stakeholder rispetto alla situazione di partenza e l'articolo 6 del decreto 33 che si è riversato nel 97 parla di un dato che deve essere integro, costantemente aggiornato completo, tempestivo semplice da consultare comprensibile, omogeneo, accessibile con indicazione della provenienza e riutilizzabile parla pure di open data l'articolo 6 e naturalmente noi sappiamo che spesso invece pubblichiamo documenti illegibili e inutilizzabili e l'articolo 32 dice che tutti i gestori dei servizi pubblici devono pubblicare le carte dei servizi e i costi contabilizzati e l'articolo 41 che parla di trasparenza sanitaria indica le spese vanno pubblicate le spese i tempi medi di attesa delle prestazioni sanitarie non solo ma l'ANAC nelle sue linee guida già del 2016 indica come obiettivo della trasparenza la partecipazione e la democrazia e soltanto successivamente la prevenzione della corruzione persino l'ANAC dice questo lo stesso fa la funzione pubblica nei suoi siti e lo fa persino il Consiglio di Stato che arriva a dire che sempre più spesso le riforme si perdono nelle prassi amministrative e conservative nel difetto di un'adeguata informatizzazione nel bancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese che non riescono a conoscere e quindi a rivendicare i loro nuovi diritti vedete il gancio che manca per l'accountability è probabilmente proprio la comunicazione guardate questi altri tag uno dei quali è di Pia Social dove la trasparenza diventa comunicazione diventa social diventa cittadini diventa Twitter diventa Comuni diventa Italia oppure nell'altro vedete c'è l'idemocracy come punto chiave l'efficacia vedete come cambia tutto e qui ci sono altri strumenti il nostro impegno per la legge 151 le assemblee nazionali sulla comunicazione digitale e questo volume che di recente ho pubblicato in cui vi sono testimonianze di colleghi di tutta Italia 37 operatori della comunicazione digitale e social in un libro che è impreziosito dalle prefazioni Gianni Letta e di Mario Morcellini sulle pratiche digitali e social ecco ci sono degli esempi io vi cito il piano della Puglia perché di recente ho partecipato alla giornata della trasparenza sulla carta qualcuno prova a mettere una rete di referenti costituita da rettore di dipartimento della regione e un ruolo di tutti i dipendenti che devono riconvertire la loro attività alla customer satisfaction e sempre in questo piano ho letto che la spinta alla partecipazione viene molto promossa rendendo tracciabile ogni singola fase del procedimento amministrativo vedete anche il riferimento agli open data alle performance del sistema sanitario che come sapete costituiscono il 75% del bilancio regionale e qui vedete anche un obiettivo molto meritorio con l'ANAC che raccomanda le amministrazioni di consultare strutturale pubblicizzare adeguatamente e la Puglia che prova a creare un tavolo GP un registro pubblico dei rappresentanti di interesse un'agenda pubblica del presidente dei componenti della giunta regionale sebbene in Puglia il presidente sia abbastanza di suo comunicativo diciamo così forse l'agenda pubblica la dà più lui che questo strumento però al di là delle battute diciamo che c'è un tentativo anche nei piani regionali questo vi parlo di quello della Puglia ma ve ne sono altri anche ben scritti e in questo caso vedete non linko perché il tempo è poco la Basilicata propone nella giornata della trasparenza una referendum un intervento di tutti chiede a tutti cosa come pensate possa essere migliorato il nostro piano per la performance nella sanità lo chiede una ASL della Basilicata e questo potrebbe essere un'indicazione che vale per tutte le ASL perché uno dei punti chiave della reputazione dello Stato è proprio nei servizi sanitari per motivi evidenti far partecipare i cittadini e le organizzazioni dei cittadini alla gestione dei piani di performance relativi alla sanità sarebbe sicuramente un elemento fondamentale per il recupero di reputazione della regione andiamo in conclusione parlandovi del fatto che un elemento chiave chiave non un elemento accessorio di questa svolta sono i social per un fatto molto banale i social sono delle piattaforme quindi delle piazze virtuali dove tutti possono intervenire gestiti bene attraverso le social media policy rendono l'amministrazione interrogabile valutabile con una pianificazione che può diventare modulare perché si basa su un impatto costantemente percepito con un'agenda di priorità che diventa diffusa perché quello che mi dice il cittadino vale persino di più di quello che dico io perché se io dico che a Roma che è dove sappiamo tutti che le buche per strada sono una consuetudine ci affezioniamo anche perché le vediamo nascere poi crescono diventano un pezzo della nostra vita se l'assessore domani ci dice che sono state tutte coperte basta la foto in tempo reale di un cittadino per rendere più importante la sua notizia del nostro annuncio e poi gli utenti parlano fra di loro sui social attraverso i social la trasparenza diventa qualcosa che supera il FOIA perché io chiedo una cosa all'amministrazione che risponde in tempo reale ed erga omnes mentre anche il FOIA anche il FOIA più semplificato prevede che sia Sergio a fare una domanda e ricevere una risposta a lui quindi che non serve a tutti gli altri entro 30 giorni attraverso un social la trasparenza si fa di fatto in tempo reale ed erga omnes ma bisogna attrezzarsi non lasciare che i comunicatori digitali siano degli sconosciuti che si aggirano con altre funzioni nel sistema pubblico in questo parte il meccanismo della riforma qui vi sono alcuni dei protagonisti della commissione che io ho coordinato il ministero della funzione pubblica vedete Mario Morcellini Francesco Di Costanzo la nuova segretaria della federazione della stampa Alessandra Costante l'ordine giornalisti l'amica Alessia Grillo segretaria della conferenza delle regioni che hanno partecipato ad un tavolo dell'OGP che ha creato un documento di indirizzo in cui la trasparenza vedete viene gestita con nuove norme con un help desk unico con la trasparenza accountability gestita dalla comunicazione mentre la trasparenza anticorruzione resta a pannaggio degli uffici legali con un lavoro di team building che vi ho fatto vedere anche nello schema del piano della regione Puglia con una giornata unica sulla trasparenza e la comunicazione che viene messa insieme col dialogo cooperativo prescritto della circolare 2 del 2017 che se non avete letto vi invito a leggere perché è molto semplice veloce e incisiva e questa è idea che c'è dentro questa riforma che è sul tavolo della politica le idee che ci sono sono queste mettiamo in evidenza la gestione della trasparenza accountability separata dall'anticorruzione perché come lo stesso consiglio di stato aveva consigliato ci deve essere un punto di riferimento unico sia per il cittadino che per l'amministrazione per gestire gli accessi agli atti che oggi però sono troppo pochi perché la comunicazione non c'è nessuno sa che esiste questo diritto e io ho letto che nel comune di Milano in un anno ci sono stati 120 accessi quindi voi dovete spiegarmi a cosa serve una legge che prevede questi numeri così irrisori tenete conto chiudiamo con questo che il digitale è già oggi un sistema di semplificazione straordinaria guardate dalla NPR all'INPA da Pago PA all'Inamica dal CE allo Speed esistono delle concrete applicazioni del nostro dell'attività digitale della nostra vita che migliorano il nostro rapporto con l'amministrazione oggi possiamo avere con un click 15 certificati gratuiti con la NPR possiamo abbiamo 32 milioni di speed che ci fanno entrare facilmente nei siti pubblici con la app io possiamo pagare anche una multa che non è mai un fatto piacevole ma era ancora meno piacevole andare alla posta a fare la fila possiamo abbiamo avuto 5 miliardi di pagamenti con Pago PA insomma ci sono dei numeri importanti l'ho chiamato il pubblico il fare insieme come elemento fondamentale per chi vuole approfondire il Formex ha realizzato adesso un documento dopo un percorso con 90 amministrazioni 90 laboratori l'Innovation Lab vedete quanto è a disposizione di tutti voi si può scaricare questo documento a questo link che naturalmente è qui in questa slide ma che potete trovare sul sito del Formex e il progetto guardate si chiamava la partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance organizzativa e di valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane questi sono i cinque punti e questo prodotto si aggiunge a quelli che ha prima esposto la nostra tutor riguardo al progetto open government quindi diciamo che il lavoro del Formex in questo è in prima linea quindi oltre alle mie alla mia esposizione che come vedete è molto veiure condendo che parla di un'amministrazione che deve ancora cambiare pelle diventare orientata al cliente orientata al cittadino come diceva il presidente Mattarella otto anni fa quindi un'amministrazione che si prepara al servizio e non si rinchiude dentro le proprie procedure e i propri adempimenti perché il punto chiave e con questo con queste due slide concludo non è tanto quello che la legge dice di fare pensate qui c'è un amico Massimo Virienza che è un esperto di anticorruzione e di etica riconoscerà subito Raffaele Cantone l'ex presidente dell'ANAC che una volta in un convegno del For Mezzan Napoli gelò la platea dicendo due cose la prima frase che disse credo che anche voi rimaniate per un attimo abbastanza sorpresi disse non è che con l'attività di anticorruzione si può davvero davvero prevenire la corruzione prima frase che lasciò tutti così dice perché serve una cultura condivisa e poi disse del resto noi non siamo tenuti a fare ciò che la legge dice di fare e anche questo lasciò tutti per un attimo così lui aspettò qualche secondo e poi disse noi dobbiamo fare ciò che la legge non ci vieta che è un concetto che sembra semplice ma che a me ha ricordato veramente un grande un grande padre della cultura occidentale come Sartre che diceva io sono responsabile di tutto di tutto quello che mi accade anche se sono disperato anche se ricevo un'ingiustizia sono sempre io il protagonista della mia vita pensate com'è importante questo concetto in una in una tendenza sostanzialmente deresponsabilizzante qual è quella della nostra società e ho voluto mettere insieme per rispetto delle diverse culture uno dei padri della cultura buddista che dice che non fare il bene equivale a fare il male quindi noi ogni mattina dovremmo pensare che è vero ci sono le leggi cioè il nostro capo che non la pensa come vorremmo ci sono una serie di ostacoli però dobbiamo cercare di rendere possibile che la nostra missione si esaudisca attraverso il servizio ad una persona se noi in un giorno diamo un aiuto ad una qualunque persona che ha bisogno di un servizio pubblico stiamo in quel momento facendo andare avanti il nostro paese quindi questo criterio la pubblica amministrazione e responsabilità a me piace sottolinearlo dopo aver parlato di leggi di adempimenti e di auspici normativi sapendo sempre che la burocrazia è sempre in agguato infatti Ennio Flaiano diceva che dopo tutti questi bei discorsi scaltritosi nel furto legale burocratico a tutto riuscirete fuorché ad offenderlo lo chiamate ladro finge di non sentirvi credate che è un ladro e vi prega di mostrargli le prove e quando gliele mostrate dice non sono in triplice copia quindi con questa sua ironia Ennio Flaiano mi permette invece di salutare un dirigente pubblico Mario De Donatis dirigente della regione Puglia scomparso qualche giorno fa un caro amico consigliere di amministrazione del Formats che è stato un servitore dello Stato è mai un burocrate quindi vi mando un abbraccio e mi permetterete questa piccola divagazione personale verso un nostro collega che non c'è più e chiudo con una con i miei numeri e insieme un piccolo scherzoso meme che gira l'Inps accusa gli hacker di aver sabotato il sito gli hacker che rispondono falso non riusciamo a collegarci neanche noi però insieme a questa battuta metto anche un uomo che si leva il cappello perché l'Inps ha 12.000 contatti al giorno e quindi chiunque ha 12.000 contatti al giorno ha pure il diritto qualche volta di scivolare e quindi va tutta la mia ammirazione ai colleghi che sono in prima linea nella comunicazione dell'Inps questi sono i miei numeri i miei contatti per qualsiasi sviluppo e confronto successivo grazie 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 a lei direttore è veramente un ottima un ottimo intervento molto chiaro con anche questo momento finale penso ci avviciniamo tutti e tutte a lei al suo momento di condivisione e la ringrazio anche per essere stato perfettamente nei tempi che spesso quando ci sono i webinar a due relatori non è mai cosa semplice quindi poi la richiamerò più dopo per le domande io invito intanto il dottor Di Rienzo a condividere le sue slide mentre ricordo ai nostri partecipanti e alle nostre partecipanti che hanno a disposizione il box domande e risposte all'interno del quale potete rivolgere le domande ai nostri relatori a conclusione dell'intervento del dottor Di Rienzo faremo insomma una sessione di domande e risposte da rivolgere entrambi io vedo perfettamente le slide quindi Massimo quando vuoi puoi cominciare intanto se mi sentite bene io comincio allora intanto un saluto a tutti e un saluto al dottor Tala o Sergio insomma come preferisci con il quale ho condiviso diciamo uno dei momenti più interessanti per la mia formazione personale ma anche per il tema dell'accountability che era linea amica in particolare la sezione riguardante le segnalazioni se positive o negative insomma quale quale servizio migliore di quello rispetto per rendere una PA veramente accountable cioè arrivavano delle segnalazioni spesso purtroppo erano segnalazioni negative cioè di qualcosa che non aveva funzionato e noi avevamo il compito di richiamare l'attenzione di quella pubblica amministrazione e quindi la vera accountability è proprio quella di rendere conto al cittadino di quello che non aveva funzionato e in molti casi anche quello che aveva funzionato perché poi in realtà non era raro che arrivassero anche delle belle segnalazioni di cose che funzionavano veramente quindi insomma nel concetto più puntuale di accountability quel servizio probabilmente aveva centrato uno degli aspetti sicuramente più necessario quindi quello è un'esperienza importante io oggi lavoro in un settore un pochino diverso mi occupo di prevenzione della corruzione o chiamiamola integrità nel nuovo modo di vedere queste dinamiche anche per non essere troppo collettivi troppo ossessivi rispetto alla corruzione lavoro lavoro come esperto della task force di open government Italia ho contribuito alla co-creazione del quinto piano nazionale di open government Italia e su questo mock su questo corso che state facendo ho curato soprattutto il quarto modulo che so che un po' riguarda gli strumenti per rendere un'APA accountable cioè fornire ai nostri partecipanti degli strumenti per cercare di capire come effettivamente si può passare diciamo dai concetti importanti l'accountability è uno dei pilastri del governo aperto come si può passare da questa idea di accountability che poi hanno si è strutturata durante tutto il corso a qualcosa di molto operativo e siccome ormai ci si sta indirizzando sempre di più abbandonando sempre di più l'idea che per esempio la prevenzione della corruzione l'integrità siano questioni organizzative ci si sta sempre di più invece avvicinando e fortunatamente al fatto che l'integrità e la prevenzione della corruzione si fa attraverso soprattutto i comportamenti individuali allora quello che poi alla fine cercherò di spiegare è come si costruiscono le competenze per rendere una per migliorare i propri comportamenti le proprie condotte per rendere poi una PA veramente accountable in grado cioè di di prevenire la corruzione ed essere più trasparente possibile quindi nel quarto modulo troverete all'inizio soprattutto anche quelli che l'hanno già fatto l'hanno trovato l'idea appunto nell'ultimo pezzo del contributo di Sergio Tala non vedevate un po' questa idea della dell'etica pubblica che va un pochino oltre il rispetto della normativa ma che sono appunto entra decisamente all'interno dei comportamenti individuali delle persone l'etica pubblica si conforma di una serie di comportamenti sono comportamenti assolutamente peculiari perché hanno a che fare con il ruolo e la funzione pubblica e vengono governati da principi di etica pubblica che sono assolutamente peculiari rispetto ai principi che invece si trovano per esempio tra gli operatori privati ecco i principi dell'etica pubblica sono principi di funzionamento meccanismi di funzionamento come per esempio il buon andamento di imparzialità che si faceva riferimento sono meccanismi di delimitazione dell'agire pubblico per esempio la legalità è un classico meccanismo di delimitazione dell'agire pubblico così come l'obiettività l'integrità poi ci sono i meccanismi di performance come l'efficacia l'economicità che sono tra l'altro i principi che in questo momento vanno un po' per la maggiore perché che tra l'altro sono stati rafforzati recentemente da due principi che sono entrati stabilmente a far parte dell'etica pubblica sono il principio di risultato e il principio di fiducia che sono stati inseriti all'interno del nuovo codice di contratti pubblici quindi vi consiglio se volete ampliare la vostra conoscenza di andarvi a guardare i principi che sono stati scritti e inseriti all'interno del nuovo codice dei contratti pubblici che creano sicuramente dei problemi però insomma sono una novità che è importante conoscere poi finalmente abbiamo dei principi di accountability di meccanismi di accountability che noi abbiamo tradotto con l'indipendenza e la trasparenza cosa significa accountability quindi significa che l'efficienza l'efficacia cioè il fatto che una pubblica amministrazione svolga correttamente un servizio alla popolazione a una collettività possa però garantire almeno queste due cose la prima cosa è l'indipendenza cioè che la pubblica amministrazione deve essere libera di agire senza subire il condizionamento di gruppi o interessi particolari la domanda che ci dobbiamo porre quando un decisore pubblico apre o chiude un processo decisionale pubblico è in nome di chi sta facendo questa cosa quali interessi sta privilegiando è importante che il decisore pubblico garantisca anche in maniera trasparente che quello che sta facendo lo sta facendo perché per promuovere un superiore interesse pubblico e non sotto sequestro di interessi privati come potete ben immaginare questo è un argomento amplissimo che diciamo va oltre come dire le pratiche amministrative ma coinvolge anche tutto ciò che è la politica per esempio le relazioni tra gruppi di interessi le famose lobby e i decisori pubblici che siedono per esempio nei parlamenti ma non sono anche per esempio alla guida di uffici ministeriali uffici delle regioni ora per esempio nella fase di attuazione del PNRR l'idea che interessi particolari possano guidare le scelte di chi ci sta governando è un'idea che noi dobbiamo in qualche modo cercare di sgombrare e l'accountability sta proprio in questo cioè nel garantire il decisore pubblico deve garantire che i propri processi decisionali siano indipendenti e che non siano sequestrati appunto da interessi particolari e poi la trasparenza di cui abbiamo sentito già dal dottor Talamo la trasparenza delle informazioni però per quale motivo i dati e i documenti devono essere accessibili allo scopo di tutelare i cittadini promuovere la partecipazione e promuovere forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni ecco la doppia anima della trasparenza di cui si parlava prima un'anima di promozione diciamo della partecipazione però c'è anche un'anima di monitoraggio di monitoraggio che noi chiamiamo civico noi dell'OGP diciamo così monitoraggio civico sul fatto che poi quelle decisioni eh mh ortino effettivamente dei risultati e come dicevo prima siano indipendenti rispetto a interessi particolari quindi questa è un pochino l'idea dell'accountability ehm sui principi dell'etica pubblica che poi però si devono tradurre in comportamenti concreti e qui possiamo iniziare a parlare di competenze cioè ehm quando l'accountability incontra l'integrità è quando proprio si traduce in comportamenti eh in condotte del dipendente pubblico che deve osservare determinati standard di integrità proprio per poter governare e garantire questa accountability dove sono collocati questi standard di integrità nel codice di comportamento nazionale eh decreto del presidente della repubblica numero sessantadue del duemilatredici e poi nei codici di amministrazione cioè nei codici che ogni amministrazione deve produrre ehm autonomamente e contestualizzare rispetto alla propria tipologia di amministrazione e ci sono tantissimi esempi no? Ci sono dei nuclei tematici del codice di comportamento che potremmo sintetizzare proprio come garanzia dell'indipendenza dei processi decisionali per esempio l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi tutti sanno che esiste questo standard di integrità no? Dal punto di vista nostro dobbiamo imparare a capire quando siamo in una situazione di conflitto di interessi che non è una cosa semplicissima no? Perché poi l'articolo 6 e l'articolo 7 declinano alcune situazioni ma non è il dipendente pubblico non nasce con la competenza di saper decodificare quelle situazioni ecco che questa è una competenza che va acquisita in qualche modo no? Così per esempio il dichieto di accettazione di compensi regali altre utilità articolo 4 del codice di comportamento nazionale è un altro articolo che garantisce l'indipendenza che sappiano voi fate un corso di formazione come facciamo noi ormai da tanti anni con spazio etico all'interno delle pubbliche amministrazioni e affrontate il terzo conto che c'è una generale come dire c'è un generale equivoco di fondo per cui i dipendenti pubblici pensano che possono accettare soltanto i doni di modico valore in realtà è molto più complesso di così però il dipendente pubblico ha in testa solo la questione del modico valore in realtà è molto più ampia la questione ha a che fare con tre diversi comportamenti la richiesta la sollecitazione e l'accettazione ecco costruire proprio queste competenze all'interno delle pubbliche amministrazioni è una cosa che va assolutamente assolutamente fatta un'altra degli obblighi dichiarativi a garanzia dell'indipendenza delle decisioni pubbliche e delle attività che si svolgono in ambito pubblico è l'obbligo di dichiarare la partecipazione ad associazioni e organizzazioni l'articolo 5 del codice di comportamento così come altri obblighi di comunicazione questi sono tutti standard che devono essere conosciuti all'interno delle pubbliche amministrazioni eccetera che i personali devi assolutamente conoscere e che non sono conosciuti semplicemente dalla presa in carico del servizio devono essere costruiti percorsi di formazione ad hoc e questi sono i percorsi di formazione assolutamente più interessanti perché come potete immaginare quando si parla di comportamenti e non di procedure si aprono dei mondi dei mondi incredibili insomma dei mondi assolutamente impensabili per esempio noi la formazione la svolgiamo attraverso la somministrazione di casi concreti cioè noi non parliamo quasi mai di norme o di regole ma parliamo di vedo che ci sono si sente a scatti spero che si possa sentire bene da adesso in poi c'è stato un momento massimo sono un ora sì c'è stato un momento in cui si è persa qualche parola si è un po' rallentata la connessione va bene proviamo ad andare avanti sì c'è stato giusto qualche parola in caso proviamo a spegnere la webcam e continuiamo ora comunque va bene ora va bene qualche volta c'è qualche perdita di connessione qualche down esatto se i dipendenti pubblici sono in questa situazione di dover costruire le proprie competenze di integrità proprio per garantire accanto a Bedi ancora di più lo sono i dirigenti i dirigenti hanno anche dei compiti di valutazione per esempio nella situazione del conflitto di interessi di cui parlavo prima è chiaro che un dipendente deve saper riconoscere se sei in una situazione di conflitto di interessi anche perché ha l'obbligo di comunicarlo di dichiararlo ma poi è il dirigente che deve valutare cosa fare sapete che esistono comportamenti diversi c'è l'astenzione c'è la vocazione da parte del dirigente o addirittura c'è l'imposizione di rimanere al proprio posto allora come si fa questa valutazione come si valuta il rischio di un conflitto di interessi perché attenzione se un dipendente pubblico agisce in conflitto di interessi allora viola uno dei principi di cui parlavamo prima di accountability in nome di chi sta prendendo quella decisione quali interessi sta perseguendo e quindi se cade il principio di indipendenza cade anche il principio di accountability noi dobbiamo essere sempre e sempre certi che le decisioni pubbliche vengano prese nel rispetto degli interessi generali e non di interessi particolari allora queste valutazioni sono complicate non sono semplici da fare e vanno le competenze di valutazione vanno costruite ed è questo l'asse su cui si sta spostando la cosiddetta prevenzione della corruzione più che i piani anti corruzione tutta quella costruzione con l'architettura che a volte può essere anche ridondante l'idea è che adesso bisogna cominciare a costruire nel personale un po' queste competenze vedremo dopo gli strumenti che abbiamo a disposizione quindi noi abbiamo nella prevenzione della corruzione una specie di hardware che potremmo chiamare così come piano anticorruzione che adesso poi si è trasferito nel Piau quello che ci diceva prima il dottor Tarmo però per far girare un po' questa macchina dobbiamo cominciare a imparare quali sono i principi dell'etica pubblica quali sono le peculiarità dei principi dell'etica pubblica e anche un po' come si valutano le situazioni e i comportamenti da adottare in determinate circostanze proprio per garantire integrità e accountability alle decisioni pubbliche quindi è questo spostamento di asse che dobbiamo cominciare a fare dagli strumenti alle competenze e in questo ovviamente il dipartimento della funzione pubblica sta proprio cercando di fare questo attraversamento perché nella formazione vedrete in questo particolare contesto che è il contesto di attuazione del PNRR sono state recentemente adottate delle direttive delle delibine molto importanti anche molto interessanti che è necessario assolutamente conoscere anche perché non stanno nel corso proprio perché sono veramente recentissime per esempio il 24 marzo quindi veramente una quindicina di giorni fa è uscita la direttiva formazione del ministero della pubblica amministrazione la firma del ministro Zangrillo proprio per la costruzione delle competenze all'interno della pubblica amministrazione ovviamente molto spazio è stato dato a agli elementi strategici della formazione in chiave di attuazione del PNRR quindi tutta la parte ovviamente legata alle competenze tecniche e soprattutto quella legata alle competenze digitali che ovviamente sono fondamentali ma troviamo spazio anche per le competenze quelle che noi chiamiamo di proprio di integrità e che invece nella delibera della direttiva vengono chiamate di addestramento al ruolo competenze e conoscenze finalizzate al ruolo che il dipendente andrà a ricoprire nell'ambito dell'amministrazione vedete questo secondo punto delle priorità strategiche della formazione è molto importante perché le competenze di cui vi parlavo prima di valutazione dell'indipendenza della trasparenza del personale pubblico vanno costruite a partire dall'inserimento del personale neoassunto quindi se avete in programma assunzioni o passaggi diciamo o mobilità interna è bene è importante che le persone il personale non conosca soltanto come si per esempio come si mantiene un database che è una cosa fondamentale oppure come si scrive un capitolato di gara e si pubblichi un capitolato di gara su un sito web quelle ovviamente sono fondamentali competenze digitali di tutti i tipi come si pubblica in open data per esempio un set di dati ma è anche importante capire come si valuta un conflitto di interessi anche perché le due cose sono anche se sembrano scollegate all'interno dell'open government alla fine sono molto molto collegate perché sono all'interno dei famosi quattro pilastri un pilastro della trasparenza un pilastro della partecipazione ma gli altri due pilastri si chiamano integrità e accantabili quindi un governo un'amministrazione veramente aperta non solo quando pubblica i dati ma anche quando garantisce che decisioni che adotta siano veramente indipendenti cioè che premiano e privilegiano sempre e comunque gli interessi generali invece che interessi particolari questa cosa non è molto nota nel senso che questo è un passaggio proprio culturale che va fatto perché spesso l'open government viene visto solo come una specie di attività di di mera pubblicazione di dati di trasparenza eccetera ma a livello internazionale ormai è piuttosto consolidata questa idea che che nell'open government l'accountability la dà soprattutto l'integrità cioè il fatto appunto come dicevo prima di aderire a degli standard di comportamento che garantiscano la priorità dell'interesse pubblico rispetto agli interessi privati o particolari quindi questo è è lo strumento che diciamo da questa fase un pochino come dire embrionale dell'anticorruzione o della trasparenza italiana che si è molto concentrata proprio sugli strumenti come i piani le procedure interne le misure gli obblighi di pubblicazione si sta piano piano trasferendo si sta piano piano come dire sta piano piano evolvendo verso le competenze per l'integrità cioè il fatto che il personale cominci a decodificare correttamente i fenomeni che osserva e agli strumenti culturali ma anche tecnici per valutare delle situazioni che possono mettere a rischio appunto la minaccia o l'integrità delle decisioni che assume ok quindi per fare un sunto anche per quello che troverete nel corso che avete trovato nel corso le competenze per l'accountability nei processi di scenari pubblici si costruisce attraverso questi quattro assi che sono poi i quattro tirassi del governo aperto trasparenza partecipazione integrità e accountability per la trasparenza e l'uso responsabile della simmetria informativa perché attenzione non esiste solo la trasparenza esiste anche la garanzia che alcune informazioni non vengano condivise perché riservate se io pubblico se io scusate condivido per esempio i contenuti di un capitolato di gara insieme a un operatore economico e in quel momento sicuramente sto agendo nella trasparenza di quel dato ma sto minacciando l'integrità di quel processo decisionale perché sto avvantaggiando un soggetto rispetto a tutti gli altri quindi mi viene a cadere l'imparzialità la trasparenza molto ha a che fare con le dichiarazioni di interessi cioè il fatto che le persone quando assumono delle decisioni devono garantire appunto quello che diciamo prima piena indipendenza e che non hanno nulla a che fare con gli interessi con alcuni interessi privati che potrebbero appunto in questo caso minacciare l'integrità la partecipazione che è uno dei passaggi che avete anche visto nel corso cioè dare voce a tutti gli interessi nel processo decisionale e quindi non limitare l'ascolto a interessi particolari a interessi privilegiati ok e poi l'integrità adesione agli standard di integrità che abbiamo visto e la cooperazione con la strategia di rinvenzione della corruzione che è un specifico standard di integrità previsto per esempio con l'articolo 8 e che ha a che fare con quello che noi insomma viene chiamato whistleblowing o segnalazione di condotte illecite per finire l'accountability la tracciabilità del processo decisionale la fedeltà e l'affidabilità vedete che all'interno del corso facciamo ragionamento proprio su tutte e due questi elementi quindi non vi spoilerò nulla perché quel passaggio lì è un passaggio fondamentale si è accountable cioè si rende conto delle proprie decisioni quando ovviamente si garantisce tracciabilità un processo decisionale cioè si ha possibilità di ricostruire il processo decisionale attraverso documentazione idonea proprio a rendere tracciabile quelle decisioni ok anche se con qualche rallentamento siamo arrivati al termine del mio contributo se volete approfondimenti andate sul sito di OGP Italia e se invece volete una lettura diciamo più come dire più approfondita di ogni singolo standard di integrità del codice di comportamento c'è il sito di Spazioetico Spazioetico.com dove troverete moltissimi articoli proprio su questo perfetto grazie Massimo io stavo un po' guardando anche la chat perché effettivamente sì c'è stato qualche rallentamento di connessione ma comunque mi hanno confermato anche i partecipanti è stato tutto più che comprensibile anzi i ringraziamenti per tutti e due stanno arrivando come potete vedere abbiamo qualche domanda visto che ci restano pochi minuti se siete d'accordo io ve le leggo subito allora le prime due sono arrivate durante l'intervento del dottor Talamo e la prima è vorrei chiedere al relatore se ritiene oggi i tempi maturi considerato anche che la legge 150 del 2000 in tema di comunicazione pubblica è stata totalmente disattesa e la domanda successiva è lo snellimento della burocrazia nell'EPA a che punto è quindi direttore intanto le lascio queste due domande e se può accendere il microfono scusi la vediamo ma non la sentiamo ho letto le domande tre sono legate alla riforma della 150 e uno parla di burocrazia quindi rispondo proprio per motivi di sintesi in modo in modo cumulativo allora per ciò che riguarda la riforma della 150 una delle previsioni chiave è la costruzione di una communication room in cui la separazione fra uffici stampa e URP del 2000 viene completamente superata anche perché la comunicazione digitale per lo stesso per lo stesso motivo per lo stessa natura della della dell'informazione digitale un post chiunque ha scritto il primo post su Facebook ha superato il confine fra informazione digitale e comunicazione perché non è possibile più distinguerla quindi in questa communication room si lavora insieme con un obiettivo che diventa appunto la la citizen satisfaction e l'accountability e vi sono naturalmente diverse norme i tempi non sono maturi siamo in ritardo dovevamo farla ieri vi è stato un errore nella non nel come ha detto Morcellini in un convegno nella mancata manutenzione della 150 che fu un grande risultato all'epoca ed è diventata desueta dopo pochi anni con dei risultati che hanno pesato poi su tutti sia sui giornalisti sia sui comunicatori sia sui digitali ma anche in generale sulle amministrazioni quindi oggi ci sono le condizioni serve che la politica accenda i riflettori su questo e stiamo naturalmente operando anche con Pia Social perché questo avvenga presto quindi sono assolutamente convinto che sarà una svolta utilissima anche ai fini di tutte le politiche come la performance la trasparenza la cittadinanza digitale che sono proiettate sul cittadino ma che non riescono ad arrivare a terra anche perché manca una valorizzazione dei professionisti del dialogo col cittadino un altro l'altro punto è collegato al primo la burocrazia sta cambiando la burocrazia non cambia da sola la burocrazia è un meccanismo di una struttura la struttura non cambia mai da sola va riconvertita verso una un diverso modo di operare per cui l'obiettivo non deve essere più adempiere a delle procedure ma raggiungere dei risultati che sono dei risultati gestionali di soddisfazione degli utenti anche il supermercato sotto casa se non fosse convertito verso la soddisfazione del cliente che va negli scaffali deve comprare un sapone o una lattina di pomodori sarebbe una struttura chiusa in se stessa che si disinteressa del pubblico perché la cosa più semplice in una casa è tenere chiuse le finestre per evitare che entri il vento il sole o l'aria invece nel momento in cui c'è questa riconversione deve essere data da un impulso politico e da un impulso legislativo la burocrazia sicuramente cambierà così come in parte è cambiata perché non possiamo dire certo che nel 2023 le cose siano come nel 1990 quando la legge diceva espressamente la trasparenza non può essere usata per controllare l'amministrazione quindi sarei molto fiducioso perché i ministri di tutti i colori politici hanno portato avanti questo discorso e con questa mentalità le cose vanno avanti anche se in modo lento a volte le norme precedono la cultura e il costume però tutti noi possiamo fare tanto per fare ogni giorno un piccolo passo nella nostra vita professionale quotidiana sì io rispondo molto volentieri la sollecitazione della dottoressa verdino che stava in chat che poi invece e che sono assolutamente d'accordo cioè quando si assegnano ruoli dirigenziali a parte che va bene scompiamo il campo da spesso si assegnano per questioni fiduciarie allora facciamo finta che non esiste la questione fiduciaria ma quali competenze vanno premiate vanno premiate ovviamente le competenze tecniche per il fatto che una dirigente deve saper fare delle cose ma se tu leggi il codice di comportamento all'articolo 13 esistono dei comportamenti organizzativi molto precisi che un dirigente deve saper mettere in atto tra le quali c'è anche la questione legata a tenere sott'occhio i comportamenti dei propri collaboratori o di quelli chiamati gerarchicamente sottoposti e in realtà allora che tipo di comportamenti devi saper valutare la prima cosa che devi saper valutare è se un tuo collaboratore sta operando in una situazione di conflitto di interessi ma come fai a farlo devi avere delle competenze allora tra le tante cose che un dirigente dovrebbe avere oltre a saper fare cose dal punto di vista digitale secondo me è enormemente più importante saper distinguere saper valutare le situazioni di conflitto di interessi e saperle pure gestire però io dico questa è una situazione che in questo momento in Italia non è nemmeno nota non esiste nemmeno l'idea del bisogno è una cosa che va costruita e noi di OGP stiamo proprio cercando di fare questo di arrivare passo passo a costruire intanto il fabbisogno cioè intanto a creare l'idea generale nella mente delle persone soprattutto della componente pubblica l'idea che i comportamenti di etica pubblica sono la base su cui si costruisce tutto il resto e non sono come dire una cosa così l'altra questione è legata per esempio al conflitto di interessi se ci sono ci sono sempre poche informazioni in realtà questo è il grande buco nero del nostro paese ma perché perché per tanti anni il conflitto di interessi è stato un oggetto misterioso sequestrato dalla politica soprattutto negli anni inizio degli anni 90 e non se ne parla quasi mai ma è il tema dei temi insomma per cui non è solo utile fare dei mock sopra ma bisognerebbe proprio costruirci costruirci la prevenzione della corruzione va costruita su questo perché il conflitto di interessi è uno dei meccanismi di base della corruzione e quindi e siccome si vince con la trasparenza il conflitto di interessi si si previene attraverso la trasparenza ecco che il collegamento con l'accountability sicuramente ha fatta molta informazione però anche in questo momento io sono in conflitto di interessi se ti dico che se vuoi sapere qualcosa del conflitto di interessi ovviamente c'è il nostro sito c'è il sito di spazio etico che si che ha dato però ecco io dico sono un formatore sono in conflitto di interessi dichiaro il mio il mio conflitto di interessi sul conflitto di interessi della politica ecco il grande secondo buco nero perché si fa sempre finta di pensare il conflitto di interessi le norme del conflitto di interessi del codice di comportamento si applicano ai personale della pubblica amministrazione e non si applicano ai politici ecco questo è un grande è un grande difetto e nelle relazioni tra gruppi di interessi e decisori pubblici non solo a livello parlamentare la chiarezza e la trasparenza di queste relazioni deve rimanere sempre sullo sfondo non c'è ancora questa cultura in Italia e se voi ci aiutate insieme possiamo provare a cominciare a costruire questa idea di indipendenza cioè l'idea che il decisore pubblico deve garantire sempre livelli alti di indipendenza perfetto grazie grazie a entrambi anche per per come vi siete gestrati la sessione domande e risposte riuscendo alla fine anche sintetizzando e unendo alcune domande arrivate a rispondere più o meno a tutto io vi ringrazio ricordo ai nostri partecipanti che ci prendiamo gli ultimi 5-10 minuti con Margherita De Giorgi per vedere insieme gli ultimi dettagli relativi al nostro MOC però prima voglio ringraziare e salutare i nostri relatori il dottor Sergio Talamo il dottor Massimo Di Rienzo e vi ringrazio penso abbiate letto anche in chat quanto i vostri interventi siano stati apprezzati e chiaramente se volete restare con noi questi ultimi minuti per vedere nel dettaglio i nostri MOC se no chiaramente possiamo salutarci qui a mio nome di Sconnetto saluto tutti oltre a voi naturalmente che siete come sempre impeccabili nell'organizzazione e dico a tutti i relatori che chiaramente i miei numeri e i miei contatti sono a disposizione ciao a tutti arrivederci arrivederci anche io mi scollego grazie ciao a tutti